Fra ministro e sindacati è scoppiata la pace, tanto che dopo l'incontro che si è svolto nella mattinata di mercoledì 24, i commenti di apprezzamento pressoché incondizionato nei confronti di Patrizio Bianchi si stanno sprecando. In tutti i comunicati che si sono susseguiti in queste ore, i sindacati non hanno fatto altro che esprimere soddisfazione per il nuovo corso che, a quanto dicono, si sta avviando proprio grazie alla disponibilità all'ascolto che il ministro ha manifestato fin dalle prime battute. Per il momento, per la verità, il ministro si è limitato a dire che sui temi più importanti intende consultare le parti sociali. Il tavolo di confronto principale riguarderà la scadenza del 1 settembre che servirà ad affrontare i molteplici problemi legati al reclutamento e al precariato. Precariato che ha ormai ampiamente superato il livello di guardia. Si parla di 213.000 precari, quasi la metà dei quali sono insegnanti impegnati su posti di sostegno, con la prospettiva che, mano a mano che passa il tempo, diventi sempre più difficile trovare soluzioni accettabili. A meno che non si incominci a percorrere la strada che Mario Pittori della Lega sta indicando da tempo. Un piano di stabilizzazione dei precari con almeno tre anni di servizio, con un semplice meccanismo. Assunzione per un anno, accompagnata da un percorso di formazione nel primo anno di servizio, esame finale da svolgere di fronte al comitato di valutazione alla fine dell'anno di prova. Il tutto da farsi appunto nel 2021-2022. Adesso questa soluzione potrebbe essere più vicina grazie al fatto che ad occupare uno dei posti di sottosegretario è stato chiamato il deputato della Lega Rossano Sasso. I sindacati, per la verità, hanno posto al ministro anche molti altri problemi. La FLC CGL, per esempio, ha chiesto a Patrizio Bianchi un impegno sulla estensione del tempo scuola per tutti, assieme alla obbligatorietà della scuola dell'infanzia e alla introduzione dell'obbligo scolastico a 18 anni. Lo scopo sarebbe anche quello di intervenire per ridurre la dispersione e l'abbandono scolastico. Va detto che questo clima da luna di miele sembra reggere, anche perché per ora nessuno ha toccato il tasto più delicato, quello del contratto scuola. Nel corso della riunione il ministro ha annunciato di aver già parlato dell'argomento con il collega Renato Brunetta e con questa dichiarazione è riuscito a bloccare eventuali malumori. Ma la questione non potrà essere messa in secondo piano per molto tempo ancora e quando se ne dovrà parlare la luna di miele potrebbe terminare. Ovviamente su tutto questo noi continueremo a tenervi informati, quindi seguitici su questo canale, ma seguiteci anche sul nostro portale www.tecnicadellascuola.it. Scriveteci, mandateci i vostri commenti, noi ne daremo conto come di consueto.